se lo sapevo che c'era chi riprendeva avrei messo il rossetto rosso bravissimo 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 bravississimo adesso la musica va bene è perfetta no? mi sono messa anche a cangiare vacanze romane hai visto che roba? quella si mi era piaciuta quella te l'ho messa apposta eh bravo grazie no no quello si anche quello stava no no però mi sa che quello no perché allora questa stanza chiamala come vuoi cioè a lui lo aveva ancora neanche per il film che aveva fatto perché era di bavà però il camillo ci aveva guardato così e questo no e poi non era neanche due metri o no perché vedi che è vicino a tutti come si vedono che belli Certo, è vero, te li conosci tutti, ne? Te rischia, te rischia, uno spettacolo, vedi troppo? Aspetta, aspetta, dobbiamo infatti vedere con la sciarpa. Quale? Qual è la sciarpa? Qual è la sciarpa? Con tua figlia... Ma che roba, osteria! Tutti in colori! Questa è la sciarpa dell'anno. Troppo bella! Sembra quella della pace! Eccola, ma che bella! Troppo bella! No, no, c'è Pinot, c'è Pinot! Questa è la sciarpa. C'è Pinot. Un'altra, c'è Pinot. Un'altra, c'è Pinot. Un'altra, c'è Pinot. Un'altra, c'è Pinot. Grazie a tutti.